Come eliminare una pagina su Facebook. Apri Facebook e clicca in alto a destra sulla tua immagine del profilo. Poi fai tap su questa freccia e seleziona la pagina che vuoi eliminare. Una volta dentro la pagina entra nel menu cliccando qui in alto a destra. Scorri verso il basso fino ad Impostazioni e Privacy. Scorri nuovamente verso il basso fino alla voce, Accesso e Controllo. Ora fai clic su Disattivazione ed Eliminazione. Qui avrai due scelte con la spiegazione dettagliata delle relative conseguenze. Se non sei sicuro disattiva la pagina anziché eliminarla. Procedendo con l'eliminazione, dovrai inserire una motivazione, anche non real. Nella schermata successiva potrai scaricare informazioni e post relativi alla pagina così da non perderlo. Per finire, fai tap su Continua. Inserisci la password di Conferma e fai tap nuovamente su Continua. Un'ultima conferma e la pagina sarà eliminata. Ricorda che hai ancora 30 giorni per ripensarci. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale. Metti mi piace ed iscriviti per aver ricevuto il canale. Grazie a tutti